Le storie oggi sono un vero e proprio metodo di linguaggio e di comunicazione anche per la pubblica amministrazione. È evidente che non basta più soltanto fare una foto e aggiungere uno stick è divertente ma si possono costruire veri e propri racconti attraverso anche applicazioni e tool che si trovano online che servono per la grafica, l'animazione, il ritrocco delle foto. Quindi riuscire ad avere padronanza di questi strumenti è fondamentale per creare storie di successo. Le storie di successo possono servire come l'amministrazione per avvicinarsi ai cittadini e raggiungerli in un modo nuovo, molto più semplice, molto più facile e senz'altro efficace. Le immagini e le foto sono fondamentali nell'utilizzo dei social perché soprattutto in questo momento per Instagram che è il social per eccellenza. La fotografia è un'ottima immagine, riescono a comunicare più di mille parole e di mille post. Noi ci siamo mossi in maniera molto semplice con un ottimo cellulare utilizzando in maniera decisamente importante tutti i filtri che Instagram ci mette a disposizione e utilizzando anche quando ne abbiamo l'opportunità durante dei concerti molto importanti dei fotografi professionisti. L'utilizzo di un'ottima foto ci ha portato oltre al contatto diretto con l'artista e quindi anche dei filtri che vivi da parte di grandi libri nazionali e internazionali anche ad avere un riscontro, un coinvolgimento e un'interazione maggiore con il pubblico che ci segue. Coinvolgere, sperimentare e curiosare in continuazione, non fermarsi mai e avere sempre, soprattutto di queste tre parole, la curiosità come base per poter raccontare al meglio quello che succede.